Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati nel DART Channel, io sono DART15C e bentornati in questo nuovo video dell'Attackit Scusate la voce ma sono un po' malato, un mal di gol assurdo E comunque devo registrare perchè questa settimana vi devo fare avere comunque video Perchè sono state settimane in cui ho caricato pochi video e devo recuperare tutto Tra l'altro anche per quanto riguarda la Exit ci sono state molte settimane in cui ho caricato un video solo Devo recuperare, in questa settimana invertiamo un po', facciamo un pochino meno Dragon Ball ma aumentiamo un altro po' la Exit Allora, innanzitutto vi vorrei far vedere che io off camera sono andato a scavare e prendere un po' di legna Poi vabbè ben stato ho trovato un po' di questo copper e niente di che Ho preso anche gli alberelli da cui ho preso tutta questa legna Me le sono messe qua perchè volevo farveli vedere Però adesso, nel frattempo, mettiamo tutto qua Bene, adesso diciamo Noi, diciamo due episodi fa, prima che facevamo l'episodio della scavata Abbiamo fatto questi macchinari qua Però, secondo me, prima di andare a fare i lavori con i macchinari Noi dovremmo preparare, dobbiamo, diciamo, assicurarsi del cibo e, per esempio, anche la rana ci potrà servire Io, come avete detto, ho spianato un po' tutto qua, devo solo finire Avevo iniziato off camera, però mi ho deciso di registrare Magari arriviamo... Vabbè, innanzitutto ci riempiamo tutto questo spazio qua, sicuro, sicuro Olè Così Perchè adesso ci facciamo dei recinti per le mucche Magari per le pecore, per i polli Abbiamo un po' di uova Magari, se ci abbiamo fortuna, le buttiamo Poi, chiudiamo anche qua Così E credo che per ora basti anche così, sì Questo lo mettiamo qua e questo qua Allora, innanzitutto sono andato a prendere anche la legna perchè dovremmo fare i vari recinti E quindi adesso dobbiamo farci le fence e i gate Allora Andiamo a casa La legna sta tutta qua Io prenderei questa legna qua che mi piace un po' di meno rispetto all'altra legna Insieme alla jungle wood Perfetto, allora io metterei qua E qua Pomp E voilà Allora, innanzitutto io mi faccio una presser plate Questa qua è doppico Le fence si facevano con gli stick, mi sa, giusto? Fatemi controllare per sicurezza Fence tutte stick E queste qua con due legni, perfetto Le faccio, facciamo uno stack, arriviamo Sì, però facciamolo a mano 32, 40, 64 Perfetto, basta così Allora, dovremmo fare così per farci Diciamo Ah, perfetto 20 fence E un fence gate Perfetto, così Anche la presser plate Che questa la piazziamo adesso Allora Presser plate qua E sta a posto Eh, facciamoci prima il recinto Per le mucche Olè Allora, facciamo così Lontano da quel coso In modo che noi possiamo passare Tranquillamente Facciamoci questo bel recinto grosso Deve avere spazio Eh, allora Andiamo così Ragazzi aveva suonato il citofono Comunque, eravamo rimasti qua Dobbiamo farcene un altro po' Perché non bastano Comunque, come vedete Ho modificato la casa off camera Ho usato quando c'erano Tanta copie Sono l'ho cotta Non sapendo che fare L'ho usata Allora Andiamo qua E facciamoci queste qua Le fence Così Perfetto Altre 20 Ma dovrebbero bastare Comunque per Quello delle mucche almeno Sta diventando rotte Quindi andrei a dormire Voilà Ecco le W Ovviamente ci devono sempre stare Dai Veloce Rapida 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 Ok Allora Andiamo a metterci Queste potette qui Belle belle Però se non me Potrebbe bastare Un altro ancora E Chiudiamo Facciamo così Un altro ancora E si chiude Perfetto Vabbè Considerando che Comunque Una la dobbiamo togliere Perché è così Comunque ne manca una Bene Non ci basta Pensavo di poter Usare solo Quella legna brutta Invece Usiamo anche Questa qua Perfetto Allora Facciamo così Oh Oh Altre 64 Dovrebbero bastare Avanzare addirittura Eh Altre 20 Andiamo di 20 in 20 Perfetto Così Allora Lo faccio Aspettate Così Lo alziamo di 2 Oppure basta 1 Ma io lo alzerei Comunque di 2 Per sicurezza Tanto le fence Dai Ne dovremmo fare Tante altre Allora Facciamo così Olle Così intanto Ci mettiamo le mucche Almeno Abbiamo la carne Per sempre Dovremmo anche Farci comunque Un allevamento Ma non in questo episodio Questo qua Nel prossimo Ci facciamo Un bel Una bella Piantagione Così abbiamo Sempre 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 Il grano Per poterle Farle Accopiare E far nascere I miei mucchini Sono fantastici Allora Stiamo finendo Un sacco di legna Vai così 64 Olè 64 64 36 Perfetto Mo Oh Perfetto Se non bastano ora Oh 60 Mo si 64 Basta E avanzano Oh Buona Vai così Olle Oddio mettere Ste cosette Ogni volta Sgarro Esco fuori Però Piano No Smetti Smetti Non laggare Perché mi stai Laggando Minecraft Del cavolo Dai Smettila Yuhu E diciamo Che questa È la parte Più facile Dell'opera Perché dovremmo Ancora Portare le vacche Le vacche qua dentro Oh Mo si Perfetto Bene Ora dobbiamo andarci a prendere del grano E cercare di far passare Tutte le mucche Tranquillamente Io non so perché È iniziato a laggare All'improvviso Però dettagli Facilmente Trascurabili Allora andiamo a vedere il grano Dove sta Dovremmo averlo Un po' giusto Si che ce l'abbiamo Perfetto Andiamo Ce ne bastano due Quelle più vicine Ah però Zittate Per ora Facciamo così Poi ce ne mettiamo un altro Difenso Ora Troviamo queste mucche Qui Scusate ancora La voce è bassa Perché veramente Non posso parlare Ad alta voce Allora Eccone una Eccone una Eccone una Yuhuuu Ok Guardami All'improvviso È iniziato a laggare Minecraft Esci Guarda il bagnetto Così entri pure lavata Guarda 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 Vieni qua Ciao Bella Guardami Dai Su Guarda dove entro io No Ti faccio entrare con la forza Ti faccio entrare con la forza Eh Andiamo a prendere una tua amica Magari Così tu ti sentirai sola E starà tutto a posto Ehi Guarda Oh Ha pure le pecore Però le pecore Non dovrebbero entrare Lì dentro Quindi Vedete qua Tutti tra le pecore Però ok Va bene Va bene Così Perfetto Andrano zoom Crucerà Quindi Possiamo anche Lasciarlo stare Finché arriva qua E portate Arrivino a mucca Mucca Guarda qua Mucca Mucca Guarda qua Mucca Ho un'idea Vai Perfetto Oh Va bene Perfetto Così da due Le faremo tante 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 Via Copulate Mucca Copulate Allora Così Perfetto Qua dentro Comunque Mi vorrei lasciare La luce Sennò Spolano I mob E la cosa Non va Molto bene Pianzo un po' Di torce A caso Perfetto Così Voilà Abbiamo già Un primo allevamento Già fatto Quello di mucca Perfetto Qui a fianco Vorrei fare Quello di pecurielle Quindi Facciamoci Quello di pecore Subito Così Quello di pecore Verrà un po' Più piccolo Perché comunque Non è che Ne ho bisogno Di tantissime Così E chiudiamo Di qua C'è Poco Perfetto Deve essere Solo alto Due Però Per il resto È perfetto Allora Devo mangiare Innanzitutto Voilà Così Per questo episodio Ci mettiamo Le pecore E lo concludiamo Qua così E stiamo a posto Poi dal prossimo Facciamo Ci facciamo Le coltivazioni E poi veramente Iniziamo Con la parte Tecnologica Quindi Con tutti i macchinari E impianti particolari Dai Su Seguitemi Seguitemi Ok Qui c'è l'acqua La devo No Qua non mi seguire La devo risalire In qualche modo Roppiamo Questa Colonna E Utilizziamola Log Col grano Ma con la copia Perfetto Così Vai Allora Via Tu Ti sposti Di qua E Guarda Qua che ti do Perfetto Ehi Guarda che ti sto dando Scusate Il telefono Eccomi qua ragazzi Questa qua La chiamata E' la puntata Con più interruzione Di questo mondo Tutta colpa vostra Ti prendo a granate Muori Va Dai Guarda che ti do Dai Oh Brava la mia pecorella Ubbidisci Dai Su Su Perfetto Va bene Così Entra qua Cioè Tutti là Vi dovete fermare Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Ok Allora Allora Yuhu Guarda qua Guarda qua Ti faccio pure la discesa Per quanto sono gentile oggi Perfetto Però tu adesso vieni con me Giusto? Eccola Yuhu Guarda qua Guarda 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 Bella Così Oh Così stiamo riuscendo ad avere pure due fottute pecore E stiamo a posto ragazzi Poi Piano piano andranno da sole Quindi noi Basta che Le impostiamo Corella Fai la brava Entra dentro Entra dentro No 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 Tu non usci Oh Tutte e due Tutte e due qua Guarda come andrà bello Vieni qua Eh Curva di qua Dai Oh mio Dio Entra dentro Oh Via qua Anzi Uno e due Perfetto Ora Dovevo fare altre comunque Fans 22 Non so se bastano Io vi farei comunque Un altro stack di questi Di stick E sarebbero altre 22 Quindi siamo arrivati a 44 Che per stavolta bastano Quindi Concludiamo questo allevamento qua Perfetto Così Ovviamente lo sto facendo doppio Perché se no Non va bene Devo farmi anche il gate Tra l'altro Ok Lo faccio comunque a due Per sicurezza Cioè Non Non credo che dovrebbero uscire Però Io per sicurezza Li metto a due Poi male che va È anche più bello di estetica Secondo me Quindi Noi continuiamo così E abbiamo quasi finito Anche se mettere questi Cosi È una cosa assurda Oh Dai che abbiamo quasi finito Perfetto Attenzione Ole Mo si Perfetto Allora Allora Un po' di torce qua intorno Ovviamente Non fa Sponare nessuno Diamo le torce Muova bene Dentro Ci sta luce Non dovrebbero Sponare nessuno Credo Almeno Spero E Devo prima di andare a dormire Quindi Prima di salutarvi Devo andare a fare una cosa Il cancellino Così Però stavolta Facciamo così E così Voilà Fence gate Perfetto Ed ora Andiamo qua Bella Così Oh Perfetto Eh Voi No Non è andato troppo presto Quindi Arigato E io me do Ok Facciamo fuori Questo Nanerottolo Qua Ci stanno arrivando Alte Facciamoli fuori E pure a te E poi basta Perfetto Bene ora ragazzi Io torno a casa Ah Sto pure morendo Di fame E ora Di mangiare Quindi Io vi ricordo di mettere mi piace Iscrivervi e commentare E noi ci vediamo In un prossimo video Questo è stato il video Più interrotto del tempo E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo